Come è un progetto di Job Matching? Per l'Italia, per l'economia negli anni passati, per tutto quello che era l'ambito industriale è sicuramente un territorio importante perché la rivoluzione digitale, la rivoluzione dell'industria digitale o se vogliamo vedere dall'altro punto di vista le sfide che ci pone la crisi, che ci pongono le situazioni contingenti non di Udine ma del mondo, fanno sì che il tema sia caldissimo e qua sia ancora più caldo perché siamo qua a Udine per quel motivo. Di cosa parliamo? Noi parliamo dell'evoluzione del mondo del lavoro che non è più legato a modelli classici quali ho il curriculum, vengo mi presento mi assumi per tutta la vita lavoro da te, non entro nel merito degli aspetti politici ma sicuramente oggi il mondo del lavoro o meglio il mondo dell'incontro tra chi ha competenze e chi queste competenze deve usarle o vuole usarle è molto molto più fluido perché ci sono le dipendenze, le collaborazioni, l'outsourcing, il crowdsourcing, le collaborazioni tra aziende e in tutto questo scenario intervengono le istituzioni, le scuole, l'alta formazione eccetera. Quindi scenario ampio, più ampio, scenario in continua evoluzione e cambiamento, scenario dove le persone si devono ricollocare in termini prima di tutto culturali, cioè capire che oggi portare le proprie competenze vuol dire innanzitutto tenere le aggiornate, saperle presentare e trovare il modo e il momento e a chi presentarle. Dall'altro lato le aziende che fino a ieri si potevano accontentare di pubblicare un annuncio e di avere centinaia di risposte, oggi in realtà hanno difficoltà a scriverlo quell'annuncio perché sanno di avere dei bisogni e questi magari non sono così codificati. Tutto ciò è ancora più vero nell'ambito delle tecnologie digitali, dove per digitale non è solo il programmatore, quello che stacchino sul computer a fare programmi o il tecnologo che costruisce apparati, ma anche tutto quell'ampia spettro di lavori che non esistevano, legati all'economia digitale, al digital marketing, ai social marketing, ai social, a web eccetera e tutti quei lavori che esistevano, esistono da sempre ma che oggi devono riconfrontarsi con nuove metodologie, nuove modalità. Non c'è azienda che non si debba confrontare con le tecnologie, o perché le usa nel prodotto, o perché le usa nel servizio, o perché le usa per comunicare, o perché banalmente ci deve convivere, anche se produco biscotti, io avrò un mondo che va a cercarmi su internet, avrò dei fan, avrò dei critici, avrò delle situazioni internazionali o delle velleità, quindi dovrò informarmi, oggi ci si informa attraverso internet, avrò un'identità digitale, volenti o nolenti, anche se non ce l'ho, è un segnale fortissimo all'esterno. Per cui non c'è ruolo anche di quelli più canonici che non si debba confrontare con le tecnologie digitali. Questo vuol dire che non c'è persona o azienda che non dovrebbe sforzarsi di riflettere. Il job matching è un punto di riflessione, un punto di incontro, un punto di confronto, anche un punto di sfida. Nel programma noi abbiamo appena finito una conferenza generale in cui abbiamo avuto interventi delle istituzioni, ma anche casi concreti del territorio. Adesso iniziano tutta una serie di presentazioni veloci cronometrate all'americana, le vector picture, per le quali le persone o le aziende si presentano velocemente, dicendo cosa offrono, cosa cercano, cosa orientano. Poi ci saranno dei workshop verticali, molto interessanti perché sono queste tematiche da conoscere. A volte noi addetti ai lavori li diamo un po' per scontato, in realtà le persone hanno bisogno, le aziende hanno ancora più delle persone bisogno di capire dove va il mondo. Ed è un mondo in continua evoluzione. Entrare nello spirito del provare, sperimentare. Anche il format nostro è un esperimento. C'è chi ci ha accolto con grande entusiasmo, chi con diffidenza. I territori periferici sono sempre molto più attenti al concreto, giustamente, ma sono anche quelli che si entusiasmano di più per il nuovo. Siamo quindi anche molto fiduciosi, le prime ore dell'incontro lo stanno dimostrando, che ci sia un fermento. Speriamo che non sia la prima e ultima, ma che sia la prima di una lunga serie di interventi sul territorio. Come dicevo, Geomecci si sposta, da Udine andremo a Torino il 29 di maggio e poi dopo l'estate dovremo andare anche in altre località spostandoci al centro-sud Italia perché poi il territorio fa l'ambiente di lavoro e le possibilità di occupazione. Noi siamo Sestile, siamo una realtà nata da circa un anno e mezzo di Treviso. Ci occupiamo di personal branding, ovvero dello studio e della comunicazione dell'immagine di un professionista o di un'azienda online e non solo online. Siamo qui per fare una presentazione che spieghi i concetti del personal branding perché molto spesso viene interpretato con la sola presenza online o con azioni di marketing mirate quando in realtà è un percorso un po' più complesso che parte appunto dalla consapevolezza di sé delle proprie capacità e dell'offerta che si vuole fare nel mercato del lavoro per passare poi all'utilizzo degli strumenti anche del web. Personal branding che rappresenta un po' un cambiamento, se vogliamo, anche culturale del modo consueto di intendere il lavoro. Arriviamo da un modello che ci parla di candidati che ricercano lavoro, presentano un curriculum, cercano di farsi selezionare appunto per ricoprire un determinato ruolo, a modelli nuovi dove se tu ti giochi in modo autentico ed efficace sul tuo brand e ti fai conoscere con le tue specificità e le tue particolarità, hai la possibilità di farti trovare e quindi non semplicemente di ricercare ma anche di appunto farsi trovare. La chiave di volta in questo tipo di approccio che funziona sicuramente con il web 2.0, con il web sociale ma funziona anche ad eventi come quello che stiamo partecipando adesso sostanzialmente è la relazione. Entrare in relazione con gli altri e cercare di fare network, di fare rete per mettere assieme più professionalità possibili e dare un'offerta più vasta possibile. Quindi personal branding inteso proprio come cambiamento culturale, come dare uno spazio alla propria identità, specializzarsi e dare appunto il giusto peso, il giusto spazio alle relazioni. Sono uno psicologo clinico e anche uno psicologo del lavoro. In questo ambito cerco di aiutare le persone ad affrontare il tema della ricerca del lavoro. Per poter fare questo ovviamente sarebbe necessario che le persone avessero ben chiaro nella propria mente quello che è il tipo di risorse presenti dentro la persona e quindi che tipo di approccio poter avere nel lavoro e nelle proprie mansioni. Proprio per questa ragione la mindfulness è un'attività che rende le persone consapevoli di cosa fanno in questo momento e di quello che potrebbero effettivamente dare in un'attività lavorativa. Per poter andare verso il mondo del lavoro è molto utile pensare che le persone debbano seminare il più possibile su se stessi. Quindi acquisire competenze, acquisire risorse è probabilmente il punto fondamentale. Oltre questo le persone ovviamente si devono mettere in gioco e quindi mettersi in gioco significa essere consapevoli che le proprie competenze possono essere utilizzate nel mondo del lavoro in maniera flessibile e compatibile alle nuove richieste e le nuove richieste del lavoro. Oggi la mindfulness ci può aiutare proprio in questi termini, proprio perché mindfulness significa essere consapevoli in modo non giudicante. Non giudicante verso chi? Verso le persone e anche verso se stessi. Anche perché ovviamente nella ricerca di un proprio posto all'interno di un'azienda si tratta di riuscire a capire, anche sbagliando perché no, quelle che sono le proprie competenze e proprio sbagliando forse l'idea interessante è quella di poter acquisire delle nuove competenze.